ciao amici di youtube bentornati in un nuovo video è arrivata Akeran e ovviamente si pulla tutto oggi ho lì in totale tutto quello che ho per ora quindi sono un bel po di pull da parte vorrei stipendere lei che è la lightcon la lightcon sono a metapiti e ho il 50 e 50 a tutte le parti sia mai che non sia così niente preghiamo speriamo io ho scritto anche il nome sulla lavagnetta a portare fortuna abbiamo pullato già in tanti il banner è stato un bezzo e mezzo hard piti vinti soft piti persi soft piti vinci insomma un casino staremo a vedere e niente nuove aspettative sono già delusa però staremo a vedere e poi ovviamente oltre a questo usciranno i prossimi giorni anche i video delle pull degli altri quindi godetevele niente grazie buona visione va bene quindi obiettivo quattro stelle possibilmente gallagher mi piacerebbe e 2 e 2 poi se va meglio gg però anche se non dovesse a dare 2 mi va benissimo sinceramente non ho non ho problemi a riguardo anzi anzi ok massimo di 5 stelle nel senso come grado c5 stelle il grado massimo si può ottenere io penso e 2 se uno ci fa un ptm un pt e qualcosa perché magari appunto da se uno perde 50 50 e 2 come minimo direi come minimo quindi levo un altro discorso se gallagher è 6 e tanta roba è un luocia discount quindi a maggior ragione se non avete luocia ci sta se no comunque per il mocca per avere un altro buon supporto come come luocia ci sta tutto quindi sì direi proprio di sì se l'avete 6 proprio a maggior ragione ne devo fare ancora un'altra sì un'altra erano 11 questa è l'ultima ok già si esatto alla c4 in su tanta roba con la c6 o e6 come la vogliamo chiamare molto molto forte perfetto ok da adesso si può partire con le multine siamo a 30 tondo si va di multi fino a 70 poi 4 singole e poi la multi quindi prima multina sulla cam si è detto mio dopo tutti queste pull abbiamo fatto per hackeron pt 30 andiamo a pt 40 ok 4 stelle vogliamo un doppio gallagher anche se ricordatevi che una costellazione la potete prendere dall'evento ora quindi anche chi non ha pullato magari per hackeron ok l'ho finito bene di questo me ne mancava uno quindi ho finito anche da neng a cui io sono abbastanza legata quindi sono contenta adesso sono tutte pull loro comunque vi dice appunto potete prenderlo perfetto potete prenderlo tutti quindi se non l'avete trovato non avete pullato lo prendete da dall'evento quindi chi volete prendere prendete io avevo detto che se non ne trovavo nemmeno uno anche se speravo di almeno uno di trovarlo avrei preso lui se ne trovavo almeno uno di lui invece continuavo a costellare guai nei fan proprio perché vi ho detto che è quella tra quelli lì che io utilizzo di più quindi comunque bene allora la e 0 ce l'abbiamo quindi almeno uno l'abbiamo portata a casa ora poi per il resto se me ne escono altri se vabbè se dovessi farlo e 4 faccio proprio anche magari buildaggio e tutto se no aspetterò ok 40 andiamo a 50 vediamo 4 stelle però oddio e 4 bisogna essere scurati parecchi eh io yukong l'avevo e 6 quindi non l'ho messa in conto un'altra interessante potrebbe essere ania perché ania funziona bene a costellazioni alte quindi potrebbe essere però io ce l'ho ancora ai 3 quindi alla fine ok pull una costellazione non mi cambierebbe nulla in questo momento se fosse stato di sceglierla e 6 di ania l'avrei presa invece così no ok 60 la c4 è buona ma è la c6 veramente sbroccata quindi ok vabbè io adesso vi farò un sacco di pull che visto che sento che andranno male queste pull mi fa comodo mi fa comodo ne ho bisogno ne ho bisogno magari 2 i multi potrebbe essere più carino però comunque io ne ho bisogno no ma lui che mi perseguisi mi va bene meglio lui che pela cioè se vedo lui sono più contenta 70 e poi le 4 singolette meglio lui cioè se dobbiamo proprio scegliere lui tutta la vita poi se mi vogliono dare tutti e due multi meglio meglio per le mie finanze di sicuro e beh appunto meglio la pelaccia se la possono tenere ok ok adesso ne prendo uno con le singole 71 ok 72 o è questa di 4 stelle o è sicuramente quella dopo quindi questa non la schippo ok è quella dopo vai e 73 qui c'è il 4 stelle per forza ma vediamo che cos'è eccola vediamo vabbè la light con questa di lui ha tra l'altro un'altra light con Nihilty e questa è anche abbastanza carina è abbastanza carina quindi tiro perché non lo vedo non è come su Genshin che riesca a capire se c'è un meno appunto il 5 stelle nuovo che è l'aga ormai di là qua non lo so qui vedo soltanto il ticchetto arcobaleno vediamo ok questo è 75 76 meno male meno male meno male meno male meno male oddio vi giuro non ci avrei scommesso una lira meno male mi strevano le mani vabbè possiamo avere anche i gallery insieme? ok va bene così per dopo è la seconda quindi 8 pt8 perfetto alla pt8 c'è da andare di qua in questo banner di merda io a me il 75 25 non funziona io qui o qua ragazzi non so come fate sempre a vincere lo vincete sempre tutti qua io non capisco come sia possibile io l'arma di romei l'ho trovata al pt ma dopo che ho perso il 50 e 50 allora questo è 50 perché vi ricordo qua il banner ok il banner qua ha praticamente il pt inferiore di 10 quindi non è 90 il massimo ma è 80 quindi basteranno due multi da adesso per arrivare vicino al soft allora vediamo se ci mollano un personaggio che anche se dovesse essere 6 sono pull no ecco bene questa però è quella che sinceramente vorrei di più quindi ok top perfetto post operation così almeno è al 4 me ne manca una ok quindi andiamo a 60 perfetto si si buono quella buono no veramente buono davvero perché comunque refinal 5 delle armi fa tanto soprattutto delle 4 stelle e su questo gioco pullo molto meno che su genshin quindi anche per questo motivo fa sempre comodo refinare le armi che non meno a disposizione buona top finita top abbiamo finita va bene è quasi un pity quindi se va bene se va bene se va bene però almeno o mi tengo il garantito poi per probabilmente robin io probabilmente robin perché aventure in carino la combo carina ok 71 72 però combo intendo pass ed è l'elemente però robin è l'altro troppo me cioè le mie due personalità sono come lei tutta e come questa giga incazzata con il mondo quindi che siano vicine un po' mi disturba però vanno vanno presse entrambi non c'è niente da fare ok 73 ok 74 può essere qualsiasi è adesso perché siamo al soft sì sì è 60 ma più o meno è la solita cosa ok andiamo può essere qualsiasi da questa perfetto da questa che arriva adesso siamo al soft quindi soft pisi non esce mai a questo pisi qua mai non esiste ok 67 nulla 68 niente guardala ok 69 niente 70 70 70 ti prego t'ho perso due volte di fila ti prego ti prego banner cesso meno male meno male meno male meno male questo banner mi odiavo meno male meno male meno male io non sculo mai un cazzo è tutto ai soft ma io i piti bassi non so che cosa siano però almeno questi erano due piti cioè erano due volte che lo perdevo quindi meno male così faccio due singole per per precisione ok singola numero uno gallagher è uscita abbastanza inizio multi quindi potrebbe appunto esserci già qua il quattro stelle a piti 10 è quello di federica ed è la genius response molto carina e ne ho pochissime refine quindi bene ok piti 10 adesso abbiamo il garantito del quattro stelle andiamo a piti 20 ok liscio qua il quattro stelle è a fine multi almeno che non lo sculiamo prima se no è proprio l'ultima singola ed è uno dei tre quindi o è gallagher o è pull o è pull per intendersi quindi ok è arrivato prima del dovuto ok e due e due bene vediamo se c'è anche un doppio stop e due ce l'abbiamo almeno inizia a essere carino e quattro buono e sei rotto quindi va bene e due è già un ottimo inizio poi è una combo che mi manca vi ho detto io di fire ho pochissimo ho topaz ma topaz non è fatta per fare grandi danni e e quindi va bene andiamo piti abbiamo detto siamo a piti appunto 20 e ne ho a piti 30 un attimo brain lagging stavo cercando di capire un attimo brain lagging ha visto il muro inciato e ho detto ok di nuovo no una pull ok la light con questa tra l'altro ce l'avevo su gepard poi ho dato la sua quindi salutata 50 nemmeno 0 nemmeno 0 quindi va bene ora un altro gallagher magari vediamo vediamo ci siamo quasi prossima no quella dopo no quella dopo ancora pela niente buono però doppio finché sono due a multi ok perfetto andiamo a 50 giusto adesso sì perché siamo andati a 40 quindi adesso andiamo a 50 let's go vedete cioè quello che dico io è per carità se poi adesso uno vince il 50 e 50 dice che è bello però anche adesso uno ha dudato già 7000 8000 cioè stella è quello che dico sì li vinci se li sculi però fa differenza scurarlo basso scurarlo alto soprattutto se fai più piti fa veramente tanta differenza era questo che dicevo prima non intendevo che se uno appunto lo vince a piti alto non scula scula ma non è la stessa cosa non è la stessa cosa soprattutto quando vabbè ciao qualcuno appunto lo fa che è free to play a voi maggiormente pesa un piti fatto al 90 fatto al 30 vi pesa un sacco la differenza 60 era per questo facevo il discorso prima perché fa veramente tanta differenza vediamo vediamo io però no in realtà non ne voglio un altro qui o me ne dai altri due o non ne voglio più perché E3 la E3 la odio quella costellazione del mezzo appunto adesso non me ne darà più io la detesto la E3 sta lì nel mezzo non ti dà cioè ti dà il buff sulla 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 cosa sulla skill però al tempo stesso è quella costellazione del mezzo la odio la E3 io lo sapevo adesso usciva ora sarà bene mediato un altro ciao doppio 4 stelle anche qua molto bene però a fine multi mi stai un po' sulle palle ok 70 ti prego Gallagher ti prego ti prego Gallagher si gentile si gentile un altro si gentile un altro va bene inizio multi lo accetto visto che l'ultima singola era 3-4 stelle di fila l'ultima della multi prima e questi due pazziti pure vabbè io grazie con tutti questi 4 stelle grazie sono rifatto un sacco di pull però ho bisogno di Gallagher comunque 71 ci siamo quasi raga siamo quasi al momento della verità 72 ok 73 e 74 perfetto siamo alpiti allora comunque vada qui è un successo perché o abbiamo appunto la E1 sua o se no abbiamo garantita Robin qua mi sono rifatta avevo 38 pull sono 55 sono quasi 20 pull che ci siamo fatti quindi sono 20 pull qua e poi vabbè qua avanza una multina esatto in realtà in questo momento la cosa che più mi preme sarebbe la E4 di Gallagher perché io non la voglio prendere dall'evento quindi vabbè è uno più garantito io al doppio su questo gioco non l'ho mai trovato da quando inizio a giocare è un anno qui il doppio non è mai uscito dai let's go 5 stelle adesso esce all'84 guarda no meno male c'è meno male c'è sì 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 avere Robert garantita non sarebbe comunque affatto male per questo ho detto a me premeva vincere la prima e vincere l'arma questo surplus si accetta a qualsiasi destino allora 75 76 grazie grazie adesso va veramente adesso veramente va benissimo tutto adesso veramente qualsiasi cosa ci sia dopo va benissimo tutto volevo questo signore 4 perché almeno non dovevo prendere la E4 dall'evento ok questa è 76 77 78 vabbè non togne il mio infinito 79 80 81 ok niente niente Robin niente Robin niente Robin va bene lo accettiamo lo accettiamo proprio per questo motivo ne tiro un'altra tanto non ho il garantito perfetto tanto non ho il garantito ora non si no no Gallagher 5 non lo accetto eh Gallagher 5 non lo accetto no no raga no eh dai ma si è successo dai raga ma può ma può questo dai per favore per favore non mi piace questo gioco dai non voglio prenderti dall'evento terza della single sì secondo me ce la facciamo dai ultimo Gallagher vabbè vabbè ho tre singole grande ho detto facevo all in ora non pensavo così tanto però dai 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 Gallagher te prego te prego ok dovrebbe essere questa singola qua dovrebbe essere questa singola qua non è mai lui raga non è mai lui questo è un cesso questo lo fa proprio apposta grazie meno male successo mamma mia grazie